Musica Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo Con Papa Maullo alla guida di tutto E riusciremo a conquistare il mondo con i colpi dai nostri Hashtag Alleluia signori miei Se tu conosci Papa Maullo scrivi nei commenti Hashtag Alleluia Allora ragazzoli torniamo in noi stessi Allora signori miei Io ho deciso di impostare questa serie Anche se effettivamente per ora sono mancato un po' dal canale raga Ma ho avuto un attimino altre necessità Altre cose da fare Quindi mi dispiace se sono un attimino mancato dal canale Però penso di sviluppare questa serie Portando un episodio ogni giorno alle 7 di sera Anche perché la vedo come una serie molto lunga raga Perché simulando tutto non abbiamo la certezza di vincere Di riuscire a andare avanti velocemente Quindi portando un episodio alle 7 ogni giorno Eventualmente escludendo sabato e domenica Vediamo un attimino come organizzarlo Dovremmo velocizzare un po' di più la situazione Noi siamo fermi all'8 agosto 2019 Abbiamo fatto un po' di mercato nell'episodio precedente E nell'episodio di ieri Sono arrivate delle offerte di mercato E siamo alla seconda partita di campionato Alla quale ci avviciniamo La prima ricordo l'abbiamo persa Amaramente Però va bene Vediamo un attimino la formazione Io non toccare niente Perché sono i migliori che abbiamo raga E i migliori li mettiamo in campo Sperando che riescano a darci delle soddisfazioni Non toccare niente Andare a simulare anche questa E speriamo che magari la seconda di campionato giocata A non la giochiamo fuori casa questa Mamma mia Pidiamo un'altra batosta come po' qui raga Dai 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 Noi ci crediamo Astag forza gamberetti Forza gamberetti Forza gamberetti E dai E dai è così Bello Hanno segnato Satton E Diagugurara Che non so come si pronuncia raga Lo chiamo Diagagugurara Eravamo andati sotto Eravamo andati sotto Perché al dodicesimo aveva segnato Maynard Per il Mansfield E noi abbiamo pareggiato con Satton E ci siamo portati in vantaggio Con Diagugurara Diagugurara Si potrebbe fare anche una canzoncina Dove li chiamo Nito Old E poi sono entrati O Sullivan E per Lewis E Tonev Per Tonev e Dell Perfetto Davanti così Ragazzi Suggeritemi nei commenti Il nome del nostro vice allenatore Perché giustamente noi le simuliamo Ma in campo ci mandiamo il vice allenatore Perché Papa Maulo la domenica Deve fare le messe Quindi non può andare a giocare Quindi Papa Maulo è impegnato con le messe O con gli incontri col Papa Con Papa Ciccio Quindi mi serve il vice allenatore Che va in campo E quindi mi serve un nome per il vice allenatore Quindi mi raccomando Suggeritemelo sui commenti Allora Arrivati al secondo finale Su William Goobbs Ah Goobbs Il biondo nero Nero biondo E un 64 E vale 700 Raga Ditemelo voi Lo compriamo questo William Goobbs Tanto come mascotte Come uomo simbolo Il nero biondo Il castano Nero Il bicolore Ecco il bicolore Lo compriamo il bicolore Vi lascio eventualmente Andiamola a trattare Andiamola a trattare Andiamola a trattare Cerchiamo di portare più soldi possibili alle casse Perché c'è bisogno Della 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 carità Forza Eccoci qui Finalmente Ah Allora 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 Me ne danno 140 Lui vale 130 Lui c'ha 28 anni Rinegoziamo questo contratto Allora Non spariamo troppo alto Perché sennò se ne vanno 180 Ci sta 180 è un'offerta Equo No Dai Ma stai scherzando Ma che t'ho detto Che volevo conoscere tua sorella Dai Ma dai Ma no Ma no Ma no Ma dovevamo levarci Dalle scatole Questo Buco nell'acqua Buco nell'acqua Allora Andiamo a vedere un attimo Gli allenamenti Allora Io direi di levare Howard Perché l'abbiamo messo sul mercato Andiamo a sostituire Con qualcuno Di quelli che abbiamo comprato Allora C'è qualcuno Che può salire Qualcuno Allora Lui Raid Lo mettiamo ad allenare Perché secondo me Questo può essere Un ottimo giocatore Ma si Allenati così Poi abbiamo Sullivan Otis Che è finito Anche lui Nel dimenticatoio Vediamo Se c'è qualcuno Che può Migliorare Non c'è nessuno Che può Migliorare Bella Bella così Ottimo Ottimo Alla grande Manco Lewis Può migliorare Ottimo Vabbè Allora Non tocchiamo niente Facciamo allenare loro Raga Anche se Otis Si difende bene Si difende Si allena bene E cresce Bravo Otis Raid Invece niente Raid è ancora nel mondo Del fondo e spazzola Questi capelli tutti dritti È ancora nel mondo Delle bambole Delle macchinine Andiamo alla partita Di turno 1 Che coppa è questa Raga Allora Alstad Ce ne stanno a fare 150 150 Ne vale 130 Andiamo a trattare Le voglio trattare tutte Raga Almeno ci divertiamo Con le trattative Allora 180 Me le hanno rifiutate Allora Me ne stanno dando 150 Noi ne chiediamo 160 Perché non mi piacciono I numeri Dispari Quindi ne chiediamo 160 Dio Sono 10.000 euro in più Oh Bravissimo Bravo il cinesino Bravo il cinesino Vedi che il cinesino è bravo Vedi che il cinesino è bravo Speriamo che sto portiere Che Olstad L'accetta E così Ti devi anche tu Dalle tre passi E siamo messi meglio Possiamo andare a cercare Un osservatore Che ci può portare Giocatori di qualità Perché noi dobbiamo puntare Raga Sui giovani Allora partita di coppa Che coppa è Non si sa FLK Boh Forse si Forse no Non si sa Allora Noi abbiamo i giocatori Un po' stanchi Raga Ma sono loro i titolari Non posso farci nulla Non posso Lewis Eppure stanco Stockholm Sullivan Gli altri sono tutti sul 50 Gli altri sono proprio inguardabili Gli altri sono proprio inguardabili Raga Dobbiamo andare avanti con loro Dobbiamo andare avanti con loro Mi sa che usciremo maramente da questa coppa Ma dobbiamo andare avanti con loro Contro il Strasbury Contro il Strasbury I nostri Camberetti Astag Forza Camberetti Dagli Camberetti Dagli Camberetti Dagli Camberetti Per Lewis Tutte Che è andato in campo Tutte Che mitico Eo Sullivan Che si è presa anche un cartellino Giallo Insieme a Sutton Siamo Va bene così Abbiamo passato il turno Bella così Dai Zio Dai che arrivano i sordi Vedete i sordi Giusto? Offerta per il trasferimento No Non mi ha dato Sculpi Mannaggia A te Non mi ha dato Ma è anche una lira Luke Colnal Col Colan Non è pure in vendita Colan Sì Allora Ah Colnal È l'esterno sinistro No 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 Non la posso vendere L'esterno sinistro Ragazzi Abbiamo solamente lui Che tra l'altro Lui è il titolare o no? Domanda da ignorante Colnal È il titolare Esterno sinistro No Non è neanche il titolare Mamma mia Sulla destra abbiamo Braxton Che è un 57 Porca miseria Che facciamo Che facciamo Lo vendiamo No Aspetta Fermi tutti Può uscire la carriera No Lo vendiamo Colnal E che poi dovremmo andare a cercare Dovremmo andare a cercare Un esterno sinistro Ma sì Ma chi se ne frega Me ne offrono 160 Lui vale 140 Andiamolo a trattare Vediamo se riusciamo a portarci a casa Magari 180 Anche da lui Vediamo se riusciamo a portarci a casa 180 Anche da lui Oh Eleton Orent La squadra di Falco Ciao Falco Io ti saluto Falco Nero Mitico Falco Nero Ringrazio Rinegozia Sì Magari 180 Dai Sono buono Dai C'ha 24 anni Non mi dite no Perfetto Perfetto Il nostro Falco Nero Accetta l'offerta Di 180 E' bella così E così facciamo spazio in rosa Raga Dovrebbero arrivare tanti bei soldini Sui quali A fine mercato Vedremo come Muoverci Come cercare di Sfruttarli meglio Che è successo? Ritirata l'offerta Per Goses Gomes Vabbè Abbiamo accettato l'altra Dobbiamo sperare Che Gomes Accetti Il trasferimento Allstand venduto Bella Così Oh Ok A vedere un attimino Si è offerta Allstand venduto Gomes venduto E chi è che parla? Breivit Breivit Ci vencerà Breivit Vuole giocare Vabbè Facciamo giocare Breivit Allora Wilding Canyon E gioca Breivit Ma scusami Dove è finito? Mi sono perso Canyon Canyon Me lo porto in panchina Vabbè dai No Me lo porto in panchina A posto di tutte Che non è contentissimo E ma si deve adegua Niente Lasciamo così Può essere che tutte gioca Gli torna il sorriso Facciamo giocare Breivit Però Che se no Mi si incacchia Giochiamo contro Contro il Caltenham In casa Dico in casa Contro il Caltenham Mi aspetto una vittoria È giusto? Astag Forza Camberetti Taglie così Taglie Camberetti Taglie Camberetti Mamma mia Che batosta C'è una partita inutile Una partita inutile Hanno fatto due gol loro E una sostituzione Noi neanche siamo scesi in campo Noi non siamo nemmeno scesi in campo Bella così Ma bello Bello veramente Bello 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 Allora Mister Anche se non abbiamo vinto Ho giocato di schifo Fatelo dire Col non venduto Tutto buono e ben detto Continua a lavorare per migliorare Mamma mia Non so quanto tu possa migliorare Però Tu continua a lavorare Allora 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 Facciamo una cosa Qui noi ci andiamo a mettere Quell'altro Lui Wilson L'attaccante destro Eh Sì C'è una buona veloce da scatto Dai così No Annulla Scusatemi Stimuliamo Vediamo se Wilson Riusciamo a farlo crescere un po' Perché Wilson Che si è allenato Da schifo È giusto Cioè uno che mi potrebbe diventare un campione O quantomeno uno meglio degli altri Giustamente Gli annoia pure ad allenarsi Perché l'abbiamo ignorato prima E quindi per vendetta Dice lui Io non mi alleno Colnan Addirittura Gran presentazione per Colnan All'Eton Orend Mamma mia E chi si sono comprati Annesta Praticamente Va bene Il prossimo incontro È fondamentale Sullivan Dice che il prossimo incontro È fondamentale Va bene Allora io per non fare cretinate Signori mei Mi fermo qui Allora Altro episodio è andato Siamo messi un po' maluccio Perché in questo momento Siamo in classifica Vabbè Dopo due giornate Dico Questo è il calendario Abbiamo il Chelsea Raga Dalla Carabao Cup Avremo il Chelsea Mamma mia Che batosta Che prenderemo pesante Che batosta Che prenderemo pesante In campionato Noi siamo diciottesimi Ottimo 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 Zitti zitti Però non siamo messi male Perché le squadre sono 24 Pensavo che fossero messi peggio Invece siamo diciottesimi Siamo messi bene Tre punticini La zona playoff Playout Qualificazione È lontana Tre punti Tre punti Perché il bread for city È a sei Quindi zitto zitto Possiamo lavorarci Detto questo ragazzolo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao